Tortura veramente terribile, quella a cui ha sottoposto la sua amata bambina in Berlino Martins, vecchi treni del South Carolina, ha acceso la fine di 17 mesi, un anno, e quindi 5 mesi di età, stringendo la maggior parte della morte, è stacolta in ospedale con forti convulsioni, probabilmente dovute alla massiccia subinostrazione di sale che la donna ha dato, il quale è morta per avvienamento e per una tremia, si chiama nel termine tecnico. I suoi reni, come tutti i bimbi della sua età, non erano sviluppati, hanno conassato per colpa delle eccessive quantità di sale sottoposte dalla mamma. Già la piccola sta visitata a me di prima e il pediatra si era allarmato perché sembrava non crescere in modo corretto, o staranno in ritardo nello sviluppo. La mamma però da quella di anni, ci pare, abbia anche smesso di portarla dal dottore, per non farle restare i propri sospetti. La donna sta arrestata con l'accusa di omicidio a scatenare la follia omicida, sarebbe stato il suo desiderio di promenzionare insieme al marito, con cui da poco era separata. Inberino avrebbe accettato il divorzio e avrebbe usato la figlia per attirare la tensione sull'ex, dell'ex proprio su lei stessa. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, povera bambina, una morte veramente terribile. Grazie. Grazie.